Molteveggine ferite non solo dalle fiamme degli incendi divampati anche nell'ultima fine settimana, ma umiliata dagli incivili che sversano rifiuti tra i boschi e i sentieri battuti dai pellegrini e gli appassionati di trekking. La montagna sacra violata dai balordi che lasciano tracce di bivacchi e cumuli di rifiuti di ogni genere. L'oltraggio alla natura sotto gli occhi di mamma schiavona. Vedete cosa abbiamo rinvenuto ridosso di uno dei più suggestivi sentieri che portano al santuario. Un'impressionante discarica, ciò l'ha aperto lungo i tornanti che portano al santuario di Montevergine che vedete dalle immagini in linea d'aria e a pochi metri da dove vi stiamo parlando. C'è di tutto un tappeto di rifiuti di ogni genere. Io mi trovo circondato da una maxipattumiera con bottiglie di vetro, plastica e carta in quantità. Ci sono anche residui alimentari. Un percorso questo ripulito più volte anche da gruppi di ambientalisti minato in lungo e largo da rifiuti anche ingombranti come pneumatici, carcassi di auto ed elettrodomestici, vidoni, scarti di mobili, bottiglie di vetro e di plastica, persino quello che sembra un cassone in metallo utilizzato per contenere i rifiuti sepolto negli anni e nell'indifferenza. Un fiume di inciviltà, una cascata di rifiuti che si abbatte su un fronte di circa 100 metri sfregiando un'oas invidiata da tanti per la sua estensione, il patrimonio arborio, il fascino emanato dalla vicina presenza di mamma schiavona. Uno scempio nel cuore del parteno che non può passare inosservato e impunito. L'abate di Monteveggio nel padre Riccardo Guariglia, del nuovo intervistato, invita l'istituzione e i cittadini a essere più sensibili per proteggere la montagna sacra. E certo non possono essere solo i cartelli e i rivieti installati a margine delle strade, tra l'altro anche loro divorati dal degrado, a fermare la mano degli scatenati pirati dell'ambiente.